Voi chi siete? No For Rome, un gruppo di persone volontarie che si occupano di manifestare contro l'uso di pellicce. In questo caso, in questo periodo storico, stiamo facendo una campagna insieme ad altri gruppi in Italia e nel mondo con Abolish For Worldwide contro Max Mara Fashion Group e i brand di Max Mara Fashion Group perché il gruppo Max Mara Fashion Group si rifiuta nel 2024, nonostante le varie pressioni che stiamo facendo, di attuare una politica for free. Noi chiediamo una dichiarazione ufficiale che non utilizzeranno mai più pellicce di animali all'interno delle loro collezioni. A prescindere che i negozi in cui facciamo le nostre manifestazioni davanti abbiano pellicce o meno, noi chiediamo che il gruppo abbia una politica ufficiale for free come già hanno fatto moltissimi altri brand nel lusso tra cui Gucci, Yves Saint Laurent, Canada Goose, Versace eccetera eccetera. Nonostante le nostre pressioni il gruppo continua a far finta di non sentire, hanno tolto online i loro articoli in pelliccia che non sono le classiche pellicce da signora anni 80 ma sono inserti dei cappucci nei cappotti, nei polsini, nei guanti, cappellini con il pompon che però è sempre pelliccia e quindi finché non avremo una dichiarazione ufficiale dal parte del gruppo Max Mara Fashion Group noi continueremo a protestare in Italia e nel mondo davanti ai loro negozi per chiedere a giro.